Airbnb è il portale online che mette in contatto persone in ricerca di un alloggio di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare. È presente in 192 paesi e nasce nel 2008 a San Francisco per opera di due designer che, in occasione di una conferenza in città, decisero di provare ad affittare uno spazio della loro casa. Ma come funziona? È semplice, basta un computer. Si sceglie la città, si sceglie la casa tra quelle a disposizione e quindi, con un clic e il numero di carta di credito, si prenota. Una volta a destinazione avviene lo scambio delle chiavi e da quel momento si può soggiornare nel luogo prescelto. Come mettersi in regola? La prima regola riguarda la casa. Quella che si propone di affittare deve essere ad uso aziendale e rispettare i requisiti igienico-sanitari. In Italia ogni regione stabilisce poi quali sono i requisiti minimi che deve possedere una struttura ricettiva non alberghiera. Passo successivo comunicare all'Agenzia regionale del turismo o a rispettivo comune che intendete affittare ad uso turistico. Nel modello vanno inseriti i dati del soggetto ospitante, l'ubicazione e l'indirizzo dell'appartamento e alla questura devono essere comunicate tutte le informazioni riguardante gli ospiti. Infine è opportuno dotarsi sempre di un'assicurazione che tuteli entrambe le parti per evitare spiacevoli inconvenienti.